Pizzeria al telefono, buon cibo, ingredienti sani del nostro orto e tanta buona energia. Vi aspettiamo a Valrovina, a soli 5 minuti da Bassano. Oltre mille positivi nella poda montana, ma i ricoveri rimangono costanti. 62.000 e non vaccinati nell'Ulss 7, 100 le prime dosi al giorno dopo l'obbligo per gli over 50. Dopo il trasferimento dell'attività chirurgica di senologia a Sant'Orso interviene l'Associazione Oncologica San Bassiano. Nessun disagio per le pazienti, per loro è importante la professionalità dell'equipe medica. Sessantenne muore nel rogo della sua auto, giallo a granella, sull'episodio indagano i carabinieri. San Bassiano, il premio cultura al Museo Hemingway e alla Fondazione Luga per il loro lavoro nel territorio. In città di Bassano ha presi di insegnanti e personale scolastico. Francesca Michiedin torna a Sanremo dopo il successo con Fedez. La cantante bassanese dirigerà l'orchestra per accompagnare Emma Marrone. Ancora indeciso dopo la scuola media? Alle porte di Bassano, alla scuola professionale Marco Polo, c'è la chiave del successo nel mondo del lavoro. Con i corsi Produzioni Alimentari, vendite e-commerce social media, agricolo agrituristico e nuova vendita e grande distribuzione. Tanti laboratori innovativi, stage nelle migliori aziende, possibilità del quarto anno duale. Ti aspettiamo all'Open Day del 16 gennaio. E ai laboratori orientanti imparare divertendoci. Fai la scelta giusta, Marco Polo. Fai la scelta giusta, Marco Polo.